Amici di Valsangone e Neto Art TV, benvenuti al primo appuntamento con la nuova trasmissione Bene Comune, la voce degli amministratori. E non potevamo non iniziare da chi rappresenta in modo complessivo gli amministratori di questo territorio, essendo Presidente dell'Unione Montagna e Comuni, Alessandro Merletti, Sindaco di Sangano e appunto Presidente dell'Unione Montagna. Buonasera. Siamo qui nella aula consigliare di Villa La Favorita, sede dell'Unione Montagna, sede prestigiosa che è stata anche in tempi recenti recuperata. Abbiamo con noi il Presidente, Sandro Merletti e quindi la prima domanda è dopo, questa Unione Montagna, che cos'è? Dunque, l'Unione Montagna è formata da sei comuni della Valsangone. La Baggioie, andando dall'alto al basso, Baggioie, Coazze, Giaveno, possiamo pensare che sia la capitale, visto il numero degli abitanti. Trana, Reano e Sangano chiude la discesa e ne apre la salita. È formata da circa 38.000-40.000 abitanti e il Presidente dell'Unione dei Comuni Montagna della Valsangone viene eletto dai sei sindaci dei comuni. Io sono stato eletto sindaco del Comune di Sangano esattamente un anno fa, il 26 maggio del 2019 e a fine luglio, una mattina, presto, in questa sala, viene nominato Presidente dagli altri cinque sindaci della Valsangone. È un'istituzione importante, ritengo, perché deve aiutare i comuni che sono operati di lavoro e di problemi a risolvere quelli che fanno parte della montagna. E quindi, oltre alla delega della socioassistenza che i comuni hanno dato all'Unione e che presto, verrà rigirata al Consorzio Conisa della Valsusa, Consorzio che, sottolineo, è 33 anni e che lavora esclusivamente nel settore della socioassistenza. Quindi questo nostro passaggio dovrà essere visto come un cercare di migliorare i servizi che ad ora abbiamo perché passiamo con dei professionisti del settore. Quindi sono sicuro che ciò che faremo, i passaggi che faremo, non faranno nient'altro perché portare dei benefici a tutti gli abitanti della Valsangone. Una volta che questa operazione sarà conclusa, l'Unione potrà di nuovo, a tempo pieno, rivolgersi a quelle attività, a quelle delega che sono prettamente montane, che sono la salvaguardia del territorio, la salvaguardia dei boschi e il turismo con il quale potremmo cercare di dare un po' di ossigeno a tutta la valle, soprattutto in questo momento che abbiamo avuto due o tre mesi di problemi seri a causa del coronavirus. Bene, proprio in un'intervista rilasciata dal Sangone Network al nostro compiato, il direttore Romano Eandi, lei indicava un metodo di azione, dicendo spero di realizzare ogni anno il progetto. È sempre su questa linea? Sicuramente sì, anch'io ricordo con piacere Romano, persona professionale, capace, di grande umanità, che riusciva a dare alle sue interviste un tocco di romanticismo sempre. mi chiesi che cosa avevo intenzione di fare e io risposi che un'operazione all'anno sarebbe per me fondamentale, ero appena stato incaricato, ero appena stato eletto al sindaco di Sangano, quindi è pieno delle novità. Credo che se riuscissimo a portare a compimento un progetto all'anno riusciremo sicuramente a fare del bene. un piccolo assaggio, ce lo dice questa sala, che era un pochettino lasciata andare, stiamo iniziando a rimetterla a posto, perché trovo assolutamente importante che la nostra sede abbia una dignità nel presentarsi a tutti coloro che vengono a trovarci, a visitarla, e vorrei che la sede fosse un pochettino rappresentarsi un po' la storia dell'unione dei comuni montagni della Vassangone, quindi una volta rimessa a posto, e quindi facendogli un nuovo macchiaio, cercheremo di studiare come far raccontare dalla storia dell'unione dei comuni. Sicuramente anche il passaggio, come dicevo prima, consorzio e con iso della socioassistenza, cosa problematica che si, diciamo, prontarai da 5-6 anni, quindi siamo arrivati al passo finale, sicuramente è da considerare in uno di quei progetti che devono essere effettuati uno all'anno. Com'è in tutti gli enti, oltre a livello politico, a livello istituzionale, c'è anche l'aspetto dei dipendenti, dei funzionari, e questo è forse ancora un capitolo un po' aperto per l'Unione di Montagna. Sì, è un'altra attenzione che voglio cercare di portare a termine lungo il mio mandato, che scadrà per 4 ore. Attualmente, lo raccontiamo per i nostri ascoltatori, l'Unione di Montagna-Vassangone non ha un proprio segretario, il segretario è dato in prestito da uno dei sei comuni che fanno parte dell'Unione e non ha altri tecnici che anche loro, a loro volta, vengono imprestati dai comuni dell'Unione. Sarebbe importantissimo per fare in modo che i lavori, tutte le procedure che l'Unione ha, che sono quelle che un comune normale potesse farle con i propri dipendenti. Quindi cercherò, impegnarlo per far sì che tra quattro anni l'Unione possa avere una sua squadra di dipendenti sui quali contare e con i quali andare avanti e portare avanti tutti i propri progetti. Se volessimo, andando verso la chiusura, individuare una sfida di sistema che magari in rapporto alla promozione di questo territorio, che ruolo può giocare in un'unità? Io credo che un'altra sfida per me e per tutti coloro che mi danno una mano sia quella di portare a conoscere l'Unione alle persone della Valsacone. Devono vedere l'Unione non comunente, astratto, molto staccato, lontano dalla realtà, ma devono vedere l'Unione come qualcosa al quale davvero affidarsi nel momento in cui ci sono dei problemi. E anche i comuni devono vedere l'Unione non soltanto come qualcosa che serve per spostare delle attenzioni o delle problematiche, ma i comuni devono vedere l'Unione come un partner per risolvere delle problematiche oppure per fare davvero un'OPA su determinati settori e io credo che il primo sia quello del turismo. Cioè se noi, come Unione Valsangone, riusciamo a convincere i comuni a creare un progetto comunitario, forse riusciamo a convogliare qui in Valsangone più persone, più turisti, anche perché abbiamo tantissime cose belle da proporre, interessanti, e quindi fare il bene della nostra valle. Reputo che tutti i Paesi abbiano qualcosa da proporre e quindi sicuramente il pacchetto che andremo a offrire sarà molto vario e importante. A questo proposito già da quest'anno cercheremo di organizzare il Festival delle Valli, che è un festival di musica lirica, che è abbastanza per un settore particolare, però che non vuole essere uno barra due appuntamenti, ma vorrebbe essere un festival che dura un mese, due mesi, nei sei Paesi della Valsangone e oltre ai sei Paesi della Valsangone abbiamo la Sacra di San Michele, che possiamo considerare la nostra madrina, come tutti sanno, è il simbolo della Regione Piemonte, però noi la sentiamo molto vicina, perché è più vicina, quindi abbiamo coinvolto altri 4-5 Paesi che sono confinati con la Valsangone per cercare di mettere in piedi un festival che possa pian piano crescere e assurgere a un festival nazionale di gran importanza nazionale sempre nell'ottica di far confluire in Valsangone un buon numero di disertatori per dare spazio a tutte le nostre attività. Federica ha un comando che abbiamo ripetuto altre volte in altre trasmissioni, bisogna conoscere per deliberare, abbiamo offerto ai cittadini della Valsangone l'opportunità di conoscere un pochettino in più l'Unione Montana e quindi per questo ringraziamo il suo presidente Sandro Marletti che ci ha fatto compagnia e che ci ha veramente guidato come un vergilio all'interno di quest'ente. Grazie a voi.